5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff! A dire la verità, il problema potrebbe non avere una risposta né oggi né mai. Il motivo? La nostra coscienza, l'interazione che abbiamo con il mondo esterno, deriva solamente da segnali elettrici all'interno del nostro cervello. Se fossimo in una realtà virtuale come Matrix, ce ne accorgeremmo? Se il nostro cervello fosse in un laboratorio e fosse attaccato a dei macchinari che inviano gli impulsi elettrici che noi crediamo realtà, ce ne accorgeremmo? Se fossimo solo segnali elettrici all'interno di un chip di silicio, ce ne accorgeremmo? La realtà è che non possiamo saperlo. Ciononostante, gli scienziati stanno cercando di approcciare il problema con il metodo scientifico e questo potrebbe avere delle ricadute anche sulla nostra esistenza. Ad esempio, potrebbe aiutare i malati in coma. Come? Se sapessimo esattamente in quale parte del cervello risiede l'autocoscienza, i medici potrebbero analizzare quella parte lì. E se fosse irremediabilmente danneggiata, capirebbero che il paziente non ha possibilità di salvarsi. Se invece fosse sana, nonostante il paziente sia in coma e quindi non riesca a parlare, a interagire col mondo esterno, allora i dottori saprebbero che c'è una speranza di salvare il paziente. Comunque siamo ben lontani dal capire perfettamente il problema dell'autocoscienza, ma qualche passo in avanti abbiamo cominciato a farlo. Il primo passo è definire l'autocoscienza. Grazie all'autocoscienza percepiamo il mondo, lo sentiamo consapevolmente, è una cosa ben diversa da rispondere semplicemente agli stimoli esterni. Quando sentiamo l'odore di un fiore, ascoltiamo un concerto, oppure tocchiamo un panno morbido, certamente stiamo rispondendo a degli stimoli, ma stiamo provando un'esperienza consapevole, un'emozione, che è una cosa ben diversa da quando ci viene la pelle d'occa per il freddo e i nostri battiti del cuore accelerano in seguito a uno sforzo o il pancreas regola il livello di insulina nel sangue. Stiamo sempre rispondendo a degli stimoli, ma solo nel primo caso possiamo parlare di autocoscienza. Mentre il nostro cervello gestisce un sacco di eventi in parallelo, noi viviamo consapevolmente solo una piccola parte di essi in un flusso continuo di esperienze, come in una storia. I primi studi sull'autocoscienza risalgono a Sir Francis Crick. Francis Crick? È quello che ha inventato il Crick? No, no, non è lui. Il Crick lo ha inventato suo fratello. Ah sì? E come lo ha inventato? Voleva passare alla storia dando il suo nome a un'invenzione che fosse utilissima per tutta l'umanità. Quindi ha pensato, mi chiamo Crick e se inventassi il Crick. Ma che storia interessante! Oh, meno male che ci sei tu che mi insegni un sacco di cose, eh! Oh, ma senti un po'. Francis Crick non c'entra niente con la meccanica. Non ha inventato il Crick. È stato un grande scienziato. Ha vinto pure il premio Nobel per aver scoperto la doppia elica del DNA. Hai capito? Oh, oh, non ti arrabbiare. Ho capito. Ma toglimi una curiosità. Perché due eliche? Non ne bastava una sola. Sì, vabbè, l'elica del DNA, mica quella degli aerei. Ma che ti vado a spiegare. Andiamo avanti, va. Stavamo dicendo. Crick e il suo team, dopo aver decodificato il codice segreto della vita, si è lanciato a cercare di indagare i misteri dell'autocoscienza. Il loro approccio è stato pragmatico. Si sono concentrati sul cercare di capire in quale parte del cervello risiede l'autocoscienza. L'idea è che sia una proprietà di specifici neuroni. Naturalmente, anche se sono stati fatti passi avanti nel capire dove risiede la coscienza, la domanda che non ha ancora avuto una risposta e che forse non ce l'avrà mai, è come nasce la coscienza. Sul dove, due ipotesi scientifiche, quindi con risultati misurabili e confutabili tramite esperimento, si stanno facendo avanti. La prima è la teoria dello spazio di azione, o Global Workspace Theory, di Bernard Bars. Suggerisce che nel cervello di ognuno di noi c'è una piccola rete di neuroni preposta a darci la coscienza di noi stessi. I segnali che passano di lì ci danno la sensazione di autocoscienza. Poi quei neuroni inondano tutto il resto del cervello con una cascata di segnali elettrici. Tale area, secondo questa teoria, è limitata e non può processare velocemente una grande mole di informazioni. Alcuni esperimenti sembrerebbero favorire questa teoria. Bisogna dire però che ci sono ancora forti resistenze all'idea che l'autocoscienza sia prettamente computazionale. Se così fosse, niente impedirebbe ai computer di diventare autocoscienti. Basterebbe scrivere il giusto software. Questa non è l'unica teoria sul tavolo. Una seconda teoria è stata proposta nel 2004 da Giulio Tononi. È la teoria dell'informazione integrata. Tononi parte dalle caratteristiche distintive dell'autocoscienza. È soggettiva, ovvero solo tu hai l'esperienza della tua propria coscienza. Nessuno può venire a vedere dentro di te qual è la tua esperienza di autocoscienza. E l'autocoscienza è unificata, continua, ovvero non può essere divisa in tanti pezzettini. Il tuo senso di te stesso è tuo e non può essere diviso in tanti te stessi. Tononi ipotizza che l'autocoscienza derivi dall'interconnessione dei tuoi neuroni e propone dunque che emerga spontaneamente dalla quantità di informazione integrata gestita dal tuo cervello. Se questa seconda teoria è vera, allora la coscienza potrebbe non essere solo semplicemente accesa o spenta, ma potrebbe esistere in uno spettro di livelli distinti. Inoltre, chissà, il World Wide Web potrebbe essere anche un pochino autocosciente. Fino ad ora nessuna delle teorie è stata sviluppata abbastanza e testata abbastanza per avere una qualunque applicazione pratica. I prossimi anni saranno cruciali e vedranno sicuramente degli sviluppi su questo argomento. Quindi che dire, continuate a seguirci perché anche se la nave di Teseo è arrivata alla fine del suo viaggio, in futuro ci saranno sicuramente tante e nuovissime pillole. Ciao!